Ciao ragazzi, terzo e ultimo giorno purtroppo di E3, ho avuto modo di provare abbastanza approfonditamente una demo di Star Fox Zero per VU. Le impressioni sono positive, però non ho visto niente per cui strapparmi i capelli. La demo era relativamente lunga, parliamo di una ventina di minuti per essere una demo di Queen Fiera, e era rivisa fondamentalmente in due parti. Una prima parte con un dogfight, con un insegnamento aereo, tipico della saga, e una seconda parte in cui si doveva difendere una torre da una serie di assalitori arachnoidi su quattro zampe meccanici. Chiaramente le due parti giocavano in maniera molto diversa, durante la prima gli echi della versione per 3DS, del remake per 3DS, soprattutto a livello di sistema di controllo, erano molto forti, per cui la stornave si controllava grosso modo alla stessa maniera di quella vista sulla console portatile, anche perché nella demo che abbiamo provato non era stata implementata, come abbiamo visto invece nella presentazione di Nintendo al Direct, la possibilità di usare il giroscopio del pad come sistema di controllo. Quindi per quanto riguarda quel tipo di sistema di controllo non mi posso esprimere. Come dicevo stamattina durante la colazione con Spazio Games, secondo me, per la mia esperienza recente con Splatoon, è un sistema di controllo che può funzionare anche molto bene, ma che richiede un po' di tempo per abituarsi. La seconda parte invece della demo era, come detto, più complicata, perché gli arachnoidi erano a terra e puntarli e tenere il reticolo di mira mentre salivano e si muovevano non era sempre facile. Poi sono andato vicino a fallire la missione, fortunatamente ce l'ho fatta, soprattutto grazie al colpo caricato, perché il colpo caricato una volta che il nemico è nel reticolo di tiro lo va a prendere a ricerca, quindi anche se il nemico si sposta dal reticolo di tiro dopo aver rilasciato il bottone, il colpo caricato lo va a prendere a ricerca e facilita quindi discretamente la vita al giocatore. Per il resto la build era abbastanza indietro a livello grafico, cioè non che fosse brutta però l'impressione è che parecchi dettagli necessitassero ancora di una giustettina. Il frame rate molto bene, i colori vivi, sgargianti, però secondo me a livello grafico c'è ancora da lavorare ed è uno dei motivi per cui non mi sono lasciato andare a esultanze clamorose. Per il resto se non avessi saputo che il gioco era sviluppato dal Platinum Games avrei fatto fatica a dirlo, perché finora o quanto meno nella demo mostrata c'era veramente poca farina del loro sacco perché il gioco sembrava assolutamente sviluppato da un team interno di Nintendo perché le somiglianze con i capitoli storici della saga, e non che questo sia un male, erano notevoli.